Nella giornata di ieri la Polizia Municipale e l'Ufficio Tributi del Comune di Capaccio Pestum hanno sottoscritto un accordo di programma per l'immediata partenza di una campagna d'azione e di sensibilizzazione per contrastare le attività ricettive non autorizzate. Si comincerà con una ricognizione effettiva di tutte le strutture esistenti ed autorizzate al fine di accertare evasioni ed irregolarità. Alla fine della campagna una mappa di geolocalizzazione mostrerà ai turisti una cartina con le uniche strutture da cui attendersi una ricettività di qualità e i servizi adeguati. Solo a queste ultime infatti in un secondo step della campagna verrà riconosciuto il marchio di qualità Costa Pestum per accedere ad innumerevoli opportunità e vantaggi. Le attività non ancora registrate potranno regolarizzare la propria posizione presso lo sportello unico delle attività produttive.